Carissimi di Palermo, cercate Gesù, ma cosa stai cercando in questa vita? I piaceri di diventare ricco, di avere belle macchine, di avere non lo so che cosa, belle donne? Stai cercando in vano, amè, è vero, perché l'unica salvezza, l'unica ricchezza, gloria a Gesù, l'unico vero amore è l'amore di Dio il Padre, che ha dato Gesù e che ci ha donato anche lo Spirito Santo, perché l'amore di un uomo passa, l'amore di una donna passa, e spesse volte l'uomo tradisce, oppure l'uomo ama per interesse, è vero fratelli? Ci sono uomini che amano le donne perché la donna gli dà qualcosa, gli dà il sesso, gli dà il piacere, gli dà il corpo, ma se non gli danno niente l'uomo non ama più, perché l'uomo è ipocrita, è carinale, così eravamo tutti, ma Cristo ha dato se stesso, gloria a Gesù, prima che noi nascessimo, alleluia, gloria a te, Signore, lui ci ha amato prima dalla fondazione del mondo, lui ci ha amato del vero amore, ha dato il suo sangue per noi, ecco perché predichiamo il suo nome, in ogni luogo, anche qui a Palermo, alleluia!